All'undicesima conferenza nazionale di statistica è presente la seconda edizione dell'area Nuove Generazioni, uno spazio per la divulgazione della cultura statistica rivolta ai giovanissimi. Come potete vedere la scuola Media Manin è una scuola coloratissima perché la zona da cui provengono i ragazzi è Piazza Vittorio, quindi una zona a forte immigrazione, sono due classi meravigliose, non ce n'è uno uguale all'altro. Stamattina con loro, media inferiori, svolgiamo un quiz che sulla falsariga dei quiz televisivi, tipo chi vuole essere milionario noi faremo chi vuole essere statistico, perché siamo convinti che imparare a governare il diluvio di dati che oggi ci sommerge quotidianamente per i giovani sia importantissimo perché non saper nuotare in questo diluvio di informazioni significa non poter esercitare fino in fondo il proprio diritto di cittadinanza in futuro, grazie. Da parte il gioco che avete fatto oggi, divertente, immagino per tutti quanti, pensi che la statistica ti sia utile per la vita di tutti i giorni? A scuola, a casa? Sì, non so come spiegarlo però sì, l'ultima domanda che dovevamo fare la scenetta e poi i nostri compagni la dovevano indovinare. Grazie.